bentornati al webinar launch oggi puntata incredibile oggi è una puntata pazzesca perché viene fatta alle ore 13 cioè voi che state guardando questa puntetta in realtà sapete che è registrata ed è in diretta solo per gli esploratori ma l'orario è le 19 sono le 19 ma in realtà sono le ore 13 e voi dite come è possibile le ore 13 perché avremo un collegamento intermega planetario dall'altra parte del mondo ma prima di tutto ciò come sempre la sigla e come sempre un ringraziamento a tutti i miei sponsor Raboso Suga e Prosecco by Leonardin Etica SRL il progetto perfetto webinar pro dell'amico Luca Vanin living media dell'amico placido lo sacco due ld l'agenzia per fare gli eventi i numeri uno dopodiché se non sai come fare le pubbliche relazioni vai da pr ne abbiamo dopodiché vai da convergo e fai business e se non sai dove partire vai da valerio punto it e incomincia con il web marketing ci siamo signori ladies and gentlemen please poi oggi posso dirlo c'è oggi proprio la puntata giusta del ladies and gentlemen and please welcome mister giuseppe cicorala ciao a tutti ciao giuseppe che piacere averti qua in diretta dagli stati uniti cleveland ohio valte stati uniti ragazzi cleveland ohio allora 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 giuseppe tu devi sapere che io verrò un giorno in america aprirò un ristorante il ristorante sarà un ristorante fusion tra la cucina italiana e americana e si chiamerà o aglio o aio olio e peperoncino mi ci mancava questo dai è bellissimo o aglio o aio o aio olio e peperoncino ho già il brand ho già tutto mi mancano gli investitori li troverò insieme giuseppe cicorella giuseppe cicorella italiano che si è rotto che ha deciso di cambiare vita ok di andare negli stati uniti perché perché lì vieni considerato per quello che vali e quindi vogliamo parlare oggi di che cos'è questo chiamiamolo sogno americano ma più che il sogno è la libertà di poterti esprimere senza il giudizio altrui e voi sapete quanti e abbiamo la prova vivente cioè giuseppe cicorella che in america ha potuto trovare quel contesto giusto per poter realizzare il suo sogno quindi giuseppe cicorella innanzitutto dove nasce allora hai toccato dei tasti non so se hai fatto un respiro giuseppe cicorella nasce a conversano provincia di bari già allora già allora valter mi sentivo un pesce fuori d'acqua perché io ero quello sempre che diceva cazzate che la sparava grossa che non mi accontentavo mai bisogna accontentarsi mi dicevano attorno a me e a me questa cosa non mi andava giù 17 anni faccio le valigie e vado mi trasferisco a milano ti lascio immaginare prendi un un terrone come ero io lo metti a milano mi hanno fatto sputare sangue perché io se respiravo si sentiva l'accento del sud e immagina che il mio datore di lavoro il primo lavoro che ho trovato era agente immobiliare di fronte ai clienti valter mi chiamava africa africa hai preparato i documenti per il no è africa ue africa hai preparato così 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 ti lascio immaginare la mia soddisfazione più grande e il fatto di non essermi mai arreso non ho mai avuto la presunzione di essere migliore di nessuno ma sicuramente di poter diventare chiunque volevo perché ti dico ciò dopo due anni io ero responsabile delle vendite degli immobili sopra un miliardo di lire stiamo parlando quando c'era la lire e dopo cinque anni ho rilevato lui era diventato un mio dipendente poi ho aperto altre agenzie in italia 12 però dopo 25 anni diciamo di esperienza non dico quello che penso 25 anni di esperienza dove venivo in america sono andato in brasile a dubai in argentina in ogni parte del mondo in inghilterra per cercare di investire capitali importanti di miei investitori e perché in italia era diventato impossibile in quanto il diritto della proprietà in italia è zero quindi rendimenti bassi diritto proprietà zero tassazione alle stelle ho cominciato ad investire nel mondo il bingo l'ho fatto quando sono arrivato in america nel 2006 perché comunque l'america come dicevi tu è veramente in un paese meritocratico cioè non ti ritroverai mai una professore come capitato a mia milano una professoressa di filosofia che decide il cambio di destinazione d'uso se lì c'è una persona che si occupa di immobiliare è specializzato nell'immobiliare è una cosa che mi chiede mi chiedete spesso mi chiedono spesso qual è la differenza più grande l'università ti faccio un esempio di economia c'è un imprenditore che nella vita privata fa l'imprenditore e poi va all'università ad insegnare come si fa imprenditoria noi in italia abbiamo dipendenti che per tutta la vita hanno fatto il dipendente che ci insegnano a noi a fare gli imprenditori quindi queste sono le cose più importanti e chiudo con questo valte 25 anni in italia a parlare con il muro perché perché io sono di uno di quelli che quando 2008 ho cominciato a parlare in italia perché sono stato invitato siccome facevo dei numeri importanti all'inaugurazione dell'arbnb in california in italia tutti quanti dicevano che non funzionerà mai oggi sappiamo che cos'è l'arbnb 2010 torno dall'america e ai miei investitori dicevo guardate che in america parlano molto forte spingono molto forte i miliardari non i piccoli investitori di cryptocurrency criptovalute io investirei in bitcoin io addirittura mi hanno dato del truffatore quindi io mi sono preso i miei bitcoin oggi a 174 dollari oggi sappiamo a quanto sono e io per la maggior parte di queste persone ho avuto culo quindi sono stato fortunato quindi perché dico questo perché l'america è un paese dove se vali emergi non ci sono scuse non ci sono scorciatoie da noi purtroppo c'è sempre quella voglia di trovare la scorciatoia perché è l'italia che ti obbliga a fare ciò l'america se lavori duramente non hai scuse e sei trasparente perché in italia c'è un'eccessiva voglia di privacy in america è tutto trasparente se tu metti nome cognome del sottoscritto esce tutto quello che io posseggo la macchina la casa le società se ho avuto addirittura delle multe quindi se non hai pagato delle tasse è tutto trasparente qui in italia quindi la cosa che mi piace dell'america è che non fanno giri di parola invece in italia purtroppo c'è ancora quel discorso di voler apparire quello che non si è ecco perché mi piace tantissimo il fatto che da cinque anni e mezzo io sono in un paese dove se vali emergi e se non vali non emergi punto la puntata finita finisce qua io vi ringrazio come dico sempre ragazzi noi non diamo perle ai porci chi segue webinar lunch e perché si prende il tempo di diventare una persona migliore perché noi non diamo perle ai porci tranne a peggy lei e peggy e devi sapere che noi non dando perle ai porci chi guarda questa puntata ha le perle gli altri si attaccano perché perché gli altri sono polli ah sì no non riesco non voglia tutte queste scuse che ma tranne lei lei è polli e lei può partecipare quindi ci dispiace per chi oggi non c'è ho spostato il monitor per farti vedere cosa c'è scritto le mie spalle risultati ma non entrambi quindi aspetta un attimo aspetta e ti metto in prima aspetta e tac eccolo qua che così c'ho anche lo screenshot che questa diventerà sì sì vedere cosa ho scritto di fronte perché di fronte ho scritto success is a decision is not casual cioè il successo è una decisione non è casualità ecco visto ragazzi tanto per sapete cosa ho scritto io di fronte paga l'affitto o sto mese è la vera volta che ti mandano via ma quella è un'altra roba ragazzi non vi preoccupate ce la faremo quindi giuseppe io ti ho conosciuto in clubhouse è entrato in nelle stanze dove c'ero io poi io sono entrato nelle stanze dove c'eri tu io ti ho fatto salire tu mi hai fatto salire insomma ci siamo conosciuti a distanza appunto perché io vivo a trieste tu vivi a cleveland una delle cose più interessanti è che quando ho fatto il tuo nome mio fratello mi fa ma lo conosco ma come fai a conoscerlo mio fratello ti conosce ti conosce per un network con cui collaborava anche lui e mi ha parlato molto bene te e quindi è stato bello perché perché ho potuto conoscere te da una persona che ti ha conosciuto credo dieci anni fa e sparo una cifra e se non mi ricordo esattamente gli anni e mi ha raccontato che sì sì l'ho conosciuto e via dicendo quindi è stato interessante che fuori dal mondo di clubhouse tu eri comunque un personaggio cioè sei un personaggio che la gente parla cioè non sei uno di quelli che passa inosservato perché quando passa qualcosa scatena tu lo stai facendo in america in maniera molto potente nel senso che hai creato una realtà una realtà importante che ci racconterai ma io vorrei ancora rimanere un attimo qui su questa tematica del dell'italia perché motivo perché chi mi segue nel webinar sa che sono uno che tendenzialmente non ha peli sulla lingua sono scontroso mando quel paese le persone e e via dicendo no quindi qual è il problema il problema è che l'italia viene visto sempre come quello del tra virgolette critica io lo faccio da mago da mago mi hanno sempre detto no wow che bravo ma mi hai fregato e non t'ho fregato ho fatto un numero di magia per intrattenerti mentre in america se faccio un numero di magia mi dicono wow che meraviglia ecco il consiglio che noi diamo alle persone che seguono il webinar lunch ok io voglio dare veramente le persone quel qualcosa che normalmente non viene dato perché tu sei l'esempio di una persona che vive appunto in america e che ha capito che l'italia ha delle più che l'italia è l'italiano medio che il mediocre che deve sempre parlare degli altri non guarda il suo orto e soprattutto è bravo a parlare ma a fare molto poco e quindi è più facile smardare gli altri piuttosto che guardare se stessi no qual è il consiglio che dai alle persone che ci stanno seguendo per non sentirsi attaccati da tutto questo cioè da dal giudizio altrui perché credimi ci sono delle persone che non fanno il post che oggi tu sei qui come l'altro giorno c'era un altro e due giorni fa c'era un altro perché chissà cosa pensa la gente che io faccio il post cioè siamo a questo livello la gente non condivide perché ha paura di quello che gli altri possono pensare e a me sta roba mi mette paura mi mette paura come persona perché vuol dire che ho limitato la mia esistenza la mia libertà ecco quello è il consiglio che dai alle persone per smetterla di pensare agli ignoranti che sono fuori e andare giù come dio comando mi permetti di allontanarmi qui perché non è preparato cioè non sapevo che mi resta può fare tutto anzi questa è la parte più bella del webinar innanzitutto io sono in piedi quindi ho cambiato la metodologia perché voglio essere frizzante no e quindi ho deciso basta adesso gli faccio i nuovi in piedi vai io non so il pubblico io ci ho spiegato che sono qui solo perché sei stato tu a chiedermelo perché purtroppo da noi nel bel paese funziona così quando tu cominci qualcosa come ti ho detto prima a me mi è stato detto del truffatore per i bitcoin oggi bitcoin sta rivoluzionando la storia perché quando in italia qualcosa non viene capita compresa viene respinta rifiutata in un primo momento poi tutti quanti dicono hai avuto botta di culo perché ti dico questo tu sai senza far giù di parole che cosa è successo con in alcune stanze con clubhouse allora la cosa che a me fa ridere e adesso vi spiego soltanto una cosa ma guardate in maniera positiva per la spiego quando il sole 24 ore quindi non nonna paperina il sole 24 ore in questo giornale economy in questo giornale millionaire cbs cbs quindi una televisione specializzata in economia parla del sottoscritto come un imprenditore di successo che lascia l'italia arriva in america ed è stato ridicolo il fatto che in una delle interviste in un giornale di was the journal mi viene detto ma è ridicolo che viene un italiano da noi ad insegnarci a fare real estate e io gli ho detto guardate che state venendo voi dall'america a noi a insegnarci a fare il caffè perché star starbucks sta sbaccando in italia e lui ha detto you have a right cioè è corretto questo discorso perché vi dico ciò perché quando tu fai questi numeri o delle banche che stanno investendo col sottoscritto una banca quando investe in un progetto ok io io soltanto cinque anni fa valter io avevo una segretaria oggi 87 dipendenti avrò fatto dei numeri o no cioè voi pensate che la mia società era un llc così oggi una corporate con un asset di oltre 25 milioni 87 dipendenti le banche investono col sottoscritto però vengo ancora giudicato e criticato dal fruttivendolo dal carpentiere dal barista che non vuol dire nulla io non ho niente contro questi lavori ma se tu fai il barista il carpentiere fai quel lavoro che a questo ci penso io perché ti dico ciò valter perché per avere queste interviste qui io quella intervista cnbc quello per avere praticamente queste queste interviste qui la prima cosa che fanno è ti richiedono il casellante giudiziario che vuol dire che loro vedono se tu in italia hai avuto qualche denuncia per truffa per frode io oggi sono proprietario il ceo e fondatore di una corporation è un spa la mia società lo stesso discorso per gestire una società del genere e fare raccolta soldi devi avere la fedina appena è pulita no è bastato un post su facebook uno su facebook dove il network market che tu menzionavi c'era scritto una persona che chiedeva posso fare il nome della del network oh sì certo flexcom è una truffa che una persona che si definisce un giornalista ha fatto un polverone della madonna perché vi spiego qual è il segreto dell'italia quando una persona partendo da zero ha successo da fastidio perché perché in italia rappresenta quello che loro non saranno mai quindi il mio unico consiglio se voi siete a posto con voi stessi puliti e avete la coscienza a posto fregatemene lo dico io che invece ci ho sofferto tantissimo perché io per un mese sono stato malissimo e valter sa cosa ho passato perché vi dico ciò perché in america tutti i giornali parlano delle donazioni che faccio perché io sono diventato uno dei maggiori donatori del orphanage che c'è qui c'è un orfanotrofio a cleveland di bambini che nascono con malformazioni valte quindi l'america ama le persone di successo che fanno ciò iniziative quindi evidenziano guardate è di successo è ricco e fa anche queste cose ho adottato 10 bambini del madagascar e mando dei soldi per mandarli a scuola vestirli e nutrirli con 12 dollari ogni bambino ok faccio molto volontariato soldi miei soldi miei non sono soldi di nessuno soldi miei ok perché in america è molto più facile fare una donazione e poi porti anche in detrazione però nessuno ne parla di queste cose in italia c'è stato un solo post di flex come una truffa e c'è la mia immagine e sono stato condannato a morte però credimi valte non so fino a che punto posso dire che me ne sbatto le palle perché tutto quello che ho fatto io in vita mia ho persone che mi seguono da 25 anni io quello che chiedo è a queste persone grazie perché queste persone mi hanno allontanato la spazzatura d'attorno a me perché una persona che che ancora oggi nel 2021 con ho sentito mi hanno detto e non mi viene a chiedere a me semplicemente giuseppe ho saputo questa cosa che cosa c'è di vero e ti faccio vedere che cosa c'è di vero il successo da fastidio quindi preferiscono sporcare il palazzo che stai creando tu piuttosto che crearsi uno loro e lo si evige tutti volte tutte le volte dai post che quando ci sono dei post di chiara ferragni briatore marchionne è stato criticato marchionne draghi io di politica non ne voglio parlare ma se si critica draghi per quanto riguarda l'economia la politica cioè siamo alle pezze in italia noi siamo virologi siamo degli industriali siamo dei medici siamo tutto però poi guardiamo siamo i commissari tecnici della nazionale italiana perché davanti non puoi far giocare belotti ragazzi belotti è lento ma devi far giocare uno più dinamico devi far giocare immobile questo l'italiano sulla sinistra non può giocare in signe è troppo debole troppo gracie sulla sinistra sulla sinistra deve giocare uno che fluidifica uno che questo è l'italiano lunedì commissario tecnico della nazionale allenatore di tutte le società più famose virologo e quant'altro ecco quello che io ho deciso di portare proprio giuseppe ospite al webinar lunch ed è bello perché in questo momento lì sono le ore 13 quindi lo facciamo a pranzo oggi in questo momento perché sono le ore 13 e quando mettiamo questa puntata online sarà comunque alle ore 13 quindi rimaniamo sempre con questo webinar lunch perché ho deciso proprio di avere lui come come ospite e ti dirò di più non sono stato neanche solo io a a parlare di te ma eh anche il mio staff Francesco Anna mi hanno detto ma perché non porti ehm Giuseppe e ho detto giusto giusto guarda io l'avevo già in mente però non avevo in mente una data no e quindi mi sono dato da fare per contattarti ed ed averti qua quello che mi piace è riuscire a far percepire le persone che avrete sempre dei nemici sempre sempre qui ci saranno sempre non potete aspettarvi di fare qualcosa e che qualcuno non vi darà contro sempre mi hanno dato contro a me che aiuto i bambini dei reparti eh del degli ospedali pediatrici dei reparti di oncologia uno mi ha detto le donazioni si la beneficenza si fa e non si dice e io gli ho risposto hai ragione non dirlo ma tu metti cento euro e compri cinque giochi io lo dico a tutti raccolgo cinque mila euro e compro tre mila giochi e per quello che mi riguarda io so che tre mila bambini sono felici con te ne sono felici quindici quindi non per i coglioni a gratis perché qualsiasi roba voi farete troverete sempre qualcuno pronto a criticarvi e quindi avete due opportunità o fate armi bagaglie date cliveland che lui c'è un ufficio grande che lo sta ingrandendo e quindi c'è posto per tutti o comunque partite da dove siete sbattendovene di quello che dicono perché se c'ho i capelli lunghi mi dicono che sono spettinato e non va bene se c'ho la barba non va bene se c'ho il pizzetto dove vai col pizzetto dove vai con la camicia dove vai con la dolce vita se ti vesti mio mio guarda giuseppe mio papà una volta ha detto una roba mondiale mio papà un giorno eh si veste bene si mette in giacca e va per andare in città da noi abitiamo leggermente fuori ma fuori intendo un paio di chilometri quindi fa sempre parte della città però il centro è quello lui arriva entra nel locale in questa trattoria e il solito tristino lo guarda fa aio dove va vesti così dove vai vestito così e mio papà a vedere chi che era il primo mona che me lo diceva a vedere che il primo deficiente che veniva a dirmelo ecco cioè tu ti metti in giacca e cravata fai comunione fai la cresima cioè purtroppo viviamo in un'epoca di gente che sa solo criticare quello che tu fai quindi per questo ho voluto veramente giuseppe qui per farvi capire che non potete subire le persone forse il contrario sono loro che dovranno subire te perché hai carisma hai forza hai voglia io guardo le foto di di giuseppe guardate guardate le foto di giuseppe adesso ve le faccio vedere perché sono uno dice ma cosa dici qua il bambino che sognava di cambiare il mondo ora già il libro ti fa capire che persone sono perché guardate guardate le foto guardate guardate che tipo di persona è allora sorriso 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 c'è purtroppo oggi come oggi il fatto che tu sia felice puoi far vedere scusami se te lo chiedo perché non sa se un genio io non le so fare queste cose puoi far vedere per favore l'ultimo post per piacere certo perché così io adesso l'ho appena ricco questo qui bravissimo questa ragazza è una ragazza che io sto facendo una raccolta fondi perché le mie skype la mia consulenza costa 250 dollari la raccolgo e la dono per comprare il pulmino a lei no c'è il vedi c'è anche il contatto della mamma e di tutto il resto perché anche a me lo stesso mi avevano attaccato però la cosa bella è quello che dicevi te no e il discorso che comunque qualsiasi cosa farai ti avranno sempre si chiama lì c'è micaela lei lei è nata tetraplegica e autistica mangia attraverso l'alimentazione parentelare e la mamma è quella che si vede nella foto e c'è anche taggata quindi capisci anche lì se ti faccio vedere i messaggi che ho ricevuto oggi di persone che mi dicono che io rubo i soldi per questa cosa qua io adesso metterò le donazioni che abbiamo ricevuto fino adesso di paypal però ti dico una cosa valte ma te la dico veramente con rammarico grazie per aver fatto vedere questa cosa perché il penso come te io dicendolo stanno arrivando molte donazioni e lo vedrete perché mettiamo il nome e cognome addirittura che ha donato chiede abbiamo chiesto il nome e cognome e quanto ha donato e io odio i social valter perché comunque il male degli ultimi dieci anni degli italiani i medi sono i social perché perché i social sono io dico sempre il palcoscenico dei pagliacci di quelli che non hanno mai ottenuto niente nella vita perché amplificano l'essere cioè io nei miei corsi dicevo sempre da 25 anni io vengo dalla scuola di tony robbins quindi da 25 anni dico ricordatevi che quello che dici è quello che tu pensi no che gli altri pensano di te è quello che tu fai che gli altri realmente vedono il tuo valore perché ti dico ciò perché noi siamo un paese pazzesco in italia ok noi tu devi premettere una cosa in tutto il mondo c'è solo un team formato da sette persone che sono praticamente gli edge founder coloro che danno l'ok per creare fondi immobiliari da miliardi di dollari ok su sette valte su sette tre sono italiani vuol dire che siamo i migliori non ce n'è persuno gli altri sono di tutte le parti del mondo che però tre sono italiani se voi pensate come ci vestiamo il mangiare quando uno deve parlare di mangiare di parlare dell'italia e basta il 78 per cento della storia mondiale c'è in italia ma ci perdiamo nelle cazzate perché quello che dicevi tu prima no io ho fatto una bio di club house perché vivo in america lavoro con l'america ho chiuso il mercato italiano quindi ecco perché mi viene da ridere cioè io sono stato accusato senza sapere che non sto non ho niente da vendere nell'italia ti ricordi quante volte mi hanno detto e si è venuto qui che cosa ci vuoi vendere niente da fastidio quindi ti devono trovare un difetto perché ti dico ciò inizio una room e dico salve sono giuseppe cicorella imprenditore italiano sono arrivato in america partito da zero ho fatto un asset immobiliare per capire io sto ascoltando questa persona perché la devo ascoltare sei un buffone sei un pagliaccio offese ok non lo dico inizio la room dico guardate se volete capire sapere chi sono andate nella bio e vedete che cosa facevano la bio non va bene quindi io quello che ho imparato è uno cercare di piacere a tutti è l'insuccesso più grande che possiamo avere nella nostra vita te lo dice uno che hai visto anche nelle foto io anche domenica scorsa due domeniche fa ho avuto un problema io sono a cleveland e fa un cazzo di freddo io odio il freddo c'erano praticamente tutti i miei endiment occupati una signora ha perso le chiavi io mi sono messo in macchina e sono andato a io a forzare la storatura ed aprirgliela il segreto del successo quando qualcuno mi dice ancora oggi qual è il segreto del successo di giusè dimmi la verità mi fanno ridere quando dimmi la verità come se non dicono dimmi la verità gli dicono cazzate e che non c'è segreto che devi fare il culo io lavoro sabato la domenica non mi ricordo più quante ore al giorno non esistono festività devi lavorare di più degli altri vuoi diventare oren buffett che è il mio mentore dice no tu devi diventare così bravo che quando qualcuno parla del tuo settore del tuo mercato non può non parlare di te ecco perché come come dicevi tu tuo fratello e altre persone perché mi sono sempre occupato di formazione crescita personale nel 2021 in italia crescita personale dicono lavare il cervello guardate che l'ottanta per cento delle persone che in italia ci sono che non hanno lavoro hanno bisogno avrebbero bisogno di una lavata di cervello crescita personale leggere dei libri utilizzare un'ora di tempo per crescere te stesso migliorare te stesso che può essere la comunicazione che può essere il modo di pensare positivo perché io vi chiedo perché l'ultimo anno ci sono persone che hanno soltanto parlato del covid lamentandosi e ci sono persone che partendo da zero hanno creato un business è tutta una questione di mentalità sono scuse quando qualcuno dice ma io sono nato in questo posto tre cose non scegliamo noi valte il nome i genitori e il posto dove siamo nati quindi l'inizio non lo possiamo scegliere ma alla fine sicuramente dipende da noi ecco perché io oggi non ho più tempo da perdere io se tu guardi questo facebook che tu guardavi che è privato perché usavo soltanto la pagina non voglio dividere con nessuno le mie esperienze l'ho attivato per vedere le live di leonardo leone e instagram lo collec lo ha connesso per entrare su clubhouse perché ti mandano dei messaggi direttamente su clubhouse perciò per farti capire quanto io odio i social che nascono per socializzare invece hanno distanziato le persone perché sono più interessati a io e te usciamo non parliamo io e te valter ma guardiamo la fotografia del sushi che abbiamo messo quanti like mi prendono questo è di sociale non sociale ascolta tu hai detto non scegliamo il nome e poi tre cose non scegliamo nella nostra vita il nostro nome i nostri genitori e il posto dove nasciamo questo l'inizio non lo possiamo scegliere noi ed è della verità ma il proseguimento dipende da te se vuoi crescere devi imparare devi studiare mettere in pratica è un'altra cosa che io sono il contrario degli altri valter oggi potrei comprarmi qualsiasi macchina valter sei mesi fa sono andato a provare il sogno della mia vita era la ron royce pantheon tre porte cabrio sono andato a provarla sono rimasto da solo e mi sono scopriato a piangere perché io ho sputtato sangue per arrivare qua io sono finito a dormire in macchina perché quando sono arrivato qua ho comperato un ristorante ma non era il mio lavoro no e quindi ho perso tutto e sono finito a guidare per uber e lyft è una specie di taxi italiano e ho dormito per tre settimane in macchina e quello che sicuramente non auguro nessuno è quando ti chiama tua mamma e gli devi dire che va tutto bene e tu invece stai dormendo in una macchina capito quindi per arrivare dove sono arrivato ho sputtato sangue sono rimasto da solo in macchina e io mi sono detto ma io veramente ho bisogno di comperarmi questa macchina per far vedere quanto valgo no ecco perché io oggi dico che ho una hyundai santa fe e chiede dimmi walter il 50 per cento delle persone che mi contattano per investire nel mio progetto mi chiedono che macchina ho cioè oggi in italia se sei una persona di successo e non hai una ferrari non sei una persona successo capisci come siamo limitati su certe cose quindi io non ho la ron royce non l'ho comperata ok la posso tranquillamente prendere perché costa solo 5.700 dollari al mese ma non me ne frega un cazzo di comprare una macchina per far vedere dagli altri chi sono e quanto vale sai che macchina ho no però non determina il tuo valore capisci cosa non ce l'ho non ce l'ho da due anni ho scelto di non avere la macchina perché giravo talmente tanto in treno che mi sono reso conto che la macchina era solo una roba in più e la riprenderò a breve ma non la guiderò più io non puoi capire cioè mi sto liberando anche da quella cosa la una delle cose che ho imparato è liberarsi dalla proprietà quindi non è mio questo me l'ha insegnato un formatore molto molto in particolare si chiama salvatore brizi molto spirituale e disse se un giorno ti rubano la macchina non ti hanno rubato niente perché di tu e qui dentro non c'è niente niente e quindi se te l'hanno rubata si vede che gli serviva e insomma è fuori questo e ho imparato a condividere quindi avere un qualcosa e dire bene usa usa te quindi il mio sogno è quello proprio di avere una macchina e di poterla dare a qualcuno che poi mi porti magari in giro però che non la devo tenere io ferma usala tu fai quello che vuoi va in giro goditela goditi sta macchina che bella a me non mi interessa però il giorno che mi serve vieni a prendermi tutto là quindi voglio comprare una macchina per donarla prendi fai tu quando vuoi quando ti chiamo vieni a prendermi no ed è il slegarsi da determinate proprietà perché non puoi avere nulla in questo in questa vita perché tutto quello che è tutto in prestito anche se ti sembra di comprare è tutto in prestito ed è vero le persone ti giudicano per quello che hai quindi siccome hai la macchina siccome questo siccome hai quell'altro allora va bene ma vabbè andrea zucca mi ricorda il portafoglio di milano io ho perso il portafoglio a torino e dopo un momento di incazzatura non so se me l'hanno rubato o se l'ho perso io sta di fatti che ho perdonato qualsiasi che perché comunque l'hanno trovato perché mi sono arrivate le notifiche che ha cercato di prendere fuori i soldi dal banco ma no dalla carta di credito l'ho perdonato non so chi era e non ho neanche denunciato ho fatto la denuncia dello smarimento un anno dopo e uno mi ha detto ma valta se lo denunci scopri chi è non mi interessa scoprire chi è in quel momento lui aveva bisogno di quel portafoglio con quei soldi dentro la prossima volta sarò più attento a non perderlo tutto là la responsabilità è mia non sua lui fa la sua vita è la sua vita non è la mia è la sua io faccio la mia la mia è stata che non sono stato attento a gestire bene un portafoglio con dentro del denaro l'ho preso alla leggera e ho pagato le conseguenze l'ho imparato l'ho perdonato perché non aveva niente da scusarsi è un problema suo non è mio questo per me è molto molto importante guarda che bello emmanuel lago buonasera grande giuseppe sei di ispira di ispirazione complimenti bello perché emmanuel lago è un imprenditore quindi diamo anche un paio di consigli agli imprenditori perché tu hai appena detto che sei partito neanche da zero da sotto zero e ha incominciato a creare il tuo successo ecco qual è il mindset perché non è secondo me una questione solo di danaro no è proprio una questione di mente cioè come stai come detto prima noi lavaggio del cervello è proprio quel lavaggio di cervello ti permette di fare il salto perché se continui a ragionare come vent'anni fa come t'hanno insegnato i genitori per tutto il bene che noi vogliamo i nostri genitori ma ci hanno installato una serie di limitazioni non devi volere chiedi chiedi permesso io non chiedo permesso io cioè non ho non non sono uno racconto questo aneddoto veloce spettacolo di magia per bambini 15 anni fa e dico la signora del teatro beh dopo alla fine faccio così con la bacchetta magica e lancio tutti i coriandoli e la signora no come no cioè il finale coriandoli bambini pazzi no non puoi come non posso signora è il mio spettacolo no i coriandoli no era il momento più figo i bambini diventavano mati coriandoli era no me l'ha segato spettacolo successivo la tipa mi fa in un altro posta cosa fai ma guarda faccio una serie di numeri di magia e poi faccio un finale dove i bambini saranno felici tiro i coriandoli vedo le tipe no i coriandoli a me che cazzo me ne frega è il mio spettacolo poi sono io che magari ti darò anche una mano a pulire certo non è che sparo i coriandoli me ne frego però non chiedo più il permesso di sparare i coriandoli intanto li sparo intanto tutti i bambini sono felici e poi se vuoi verrò a pulirlo quindi è una questione di mindset ecco quanto hai modificato il tuo mindset per arrivare dove sei arrivato allora innanzitutto guarda valte divento serio per un attimo perché dopo che fai l'imprenditore per 25 anni in italia a me ea tutti gli imprenditori in ascolto rambo ci fa una pitta perché dico questo perché non sentitevi io l'ultimo anno valter e lo dico a petto in fuori l'ultimo anno in italia io prendevo antidepressivi prendevo l'exo tam per dormire ero sotto cura di psichiatra perché l'italia ti fa sentire un coglione fa sentire inutile io valter in italia ho avuto agenzie immobiliari società di management palestre negozi di integratori gestivo in estate vivendo riccione cattolica spiagge bar sempre in società con altre persone spiagge bar ristoranti alberghi quindi cioè dovrebbe l'italia dire cazzo sei un grande perché dai posti di lavoro no invece l'italia è l'unico posto al mondo dove ogni volta che inauguravo qualcosa sistematicamente arrivava equitalia e guardia finanza e io mi era una cosa che diceva ma perché l'ho aperto capito cioè ti fanno passare la voglia di vivere quanti imprenditori si uccidono in italia quanti imprenditori si uccidono perché io ho io purtroppo perché l'ultimo anno finito male perché io ero vicino un amico e non mi ero reso conto che lui era frutta e lui si è tolto la vita 27 anni stiamo parlando di una persona di rimini che si è tolta la vita perché ha fallito col ristorante e i genitori gli hanno detto adesso che cosa devono dire gli altri alle volte noi diciamo delle cose non ci rendiamo conto del potere che ha la nostra parola quindi attenzione alle persone che incontrate perché tanti stanno combattendo delle battaglie stiate più attenti perché questo ragazzo di 27 anni era una persona fantastica 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 e perché dico ciò non è una questione di mentalità valte io penso di essere un fuoriclasse in america e lo ero anche in italia perché non fa i numeri che ho fatto io e che sto facendo qui in america se non sei un fuoriclasse solo che l'america se sei un fuoriclasse ti incentiva valter dopo tre mesi io ho avuto l'irs nel mio ufficio questo è una carezza per tutti quanti voi imprenditori io sono stato torturato dalla guardia di finanza da equitalia quindi nessuno mi ha mai detto grazie per il numero dei dipendenti che avevo ma se c'era un euro e 70 fuori da scontrini perché magari la commessa aveva sbagliato non perché tu vuoi evadere un euro e 70 io 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 quando lo dico qui nessuno mi crede prendevi 500 euro di multa per aver rubato un euro e 70 questo è l'italia oggi inutili che ci prendiamo per il culo il problema per l'italia non andrà mai da nessuna parte questo dopo tre mesi io ho detto prima ogni attività caprivo arrivamo nei controlli e come dovevi dichiarare tu dovevi dovevi dimostrare tutto ok io qui dopo tre mesi ho una irs irs è un ibrido tra la guardia di finanza e l'equitalia non capivo assolutamente l'inglese come lo capisco oggi e chiedo alla mia la mia segretaria che parlava un po italiano e gli e dice sono venuti per un c'è un controllo vuol dire no e mi sono caccato sotto ho detto ecco allora anche qua è la stessa cosa valte ve lo auguro di cuore io sono scoppiata a piangere perché questo di fronte a me mi dice cosa how we can do to help your business grow up cosa possiamo fare noi per aiutarti a crescere col tuo business e io gli ho detto why you ask me that e loro hanno detto perché abbiamo visto che tu praticamente tre mesi hai assunto sei persone quindi questa è l'america e voi sapete cos'è l'italia perciò io ho una stima e ammirazione per ogni imprenditore che apre una partita iva che tu possa avere un un dipendente o possa avere 500 dipendenti tu sei un eroe io mi sono dovuto arrendere all'italia per ritornare a sognare per ritornare a vivere la cosa più importante che io oggi sto guadagnando la libertà nessuno mi dice come mi devo vestire come devo ragionare come devo pensare ho detto no mi occupo di creare fondi immobiliari e sono sempre premiato come quello con la miglior produzione walter ma io sono quello che su facebook il fruttibendolo di turno mi da secondo me sta sbagliando dovresti fare così quindi da noi non cambierà mai niente a riguardo e invece qui l'america mi ha ridato la possibilità di sognare cioè vedere che le persone ti fanno i complimenti e i tuoi competitor ti fanno i complimenti ti vengono a chiedere consulenza non è come da noi la consulenza va pagata i grandi chiedono consulenza e la vogliono pagare i piccoli non chiedono consulenza chiedono un consiglio capito per me è la stessa cosa quello che ho imparato in america i piccoli vogliono insegnarti a fare business i grandi stanno zitti e imparano quindi questa è una cosa che da noi non cambierà mai c'è una presunzione un'arroganza di sapere tutto e tutti che è assoluta e chiudo con un esempio tu hai detto il discorso della possessione il mio progetto sta riscontrando questi numeri perché perché c'è io acquisto praticamente dalle banche il debito che c'è sulla proprietà non compro una proprietà ok quindi compero il debito e riesco a pagare le case il 20 30 40 per cento in meno ok quindi valter l'esempio è praticissimo tu investi 100 quella casa che tu valter se viene in america la paghi 100 io la pago 60 ok avrò dei meriti mi sono carriato dei canali ok non mi stai pagando un'ora di consulenza tu stai pagando 29 anni di lavoro io ho 29 anni di esperienza quando tu paghi 250 dollari non è un'ora del mio tempo sono 29 anni di esperienza e noi non riusciamo a capirlo perché perché quando io ti dico questa cosa il business perché sta avendo questo successo pazzesco in america perché l'americano arriva subito a capire mi cede il 25 per cento di quell'immobile e per tutta la vita io gli gestisco l'immobile gratuitamente questa società di management dove sto adesso tutti gli investitori quando investono in america devono pagare il 10 per cento dell'affitto al alla gestione devono pagare l'otto per cento dell'affitto quando il reltor l'agente immobiliare italiano si affitta l'immobile col mio progetto loro questi due costi non li pagheranno mai perché li vado a pagare io io ho avuto un sacco di difficoltà perché l'italiano ti dice no deve essere tutto mio quello che dicevi tu la possessione e non riescono a capire che così io lavoro è come se io lavoro per loro per tutta la vita perché per guadagnare io devono guadagnare loro ok se perdono loro perdo io perché il 75 25 è sulle spese e sui guadagni quindi quando io ho un problema al frigorifero io in italia quando avevo gli immobili con i miei clienti mi chiamavano diceva si è rotto il frigorifero e dicevo fai quello che devi fare e questi lo cambiavano oggi se io ho i miei dipendenti e c'è un problema frigorifero e c'è un motorino così di 70 dollari io faccio cambiare il motorino non faccio cambiare il frigorifero perché perché il 25 per cento di quel motorino piccolino lo pago anche io quindi capisci come ci si perde in un bicchier d'acqua perché l'americano in tre secondi capisce subito e sto avendo un successo pazzesco abbiamo fatto una raccolta in tre mesi in america pari a quella di cinque anni in italia e per 25 anni questo progetto in italia non sono mai riuscito a farlo sviluppare perché quel discorso della possessione ancora oggi un italiano mi dice lo devo scegliere io l'immobile mi devi piacere l'immobile ti deve far guadagnare guadagnare è una cosa piacere un'altra cosa che cazzo me ne frega a me se non mi piace l'immobile se mi rende un 27 per cento in italia io quando ottenevo il 5 per cento ero grandioso qui stiamo ottenendo il minimo non andiamo sotto il 18 per cento anche fino al 30 per cento e ancora oggi mi vien detto mi deve piacere non ci devi andare a vivere tu deve essere praticamente un immobile che ti deve rendere che deve avere meno riparazioni che deve avere meno meno manutenzione no non c'è riuscito allora giuseppe innanzitutto vabbè questo è quello che abbiamo detto prima vedete il mindset viviamo ancora di avete visto la puntata di massimo bolla c'è ci sono soluzioni nuove per i problemi vecchi non potete avere soluzioni vecchie per i problemi vecchi non funzionano più dovete trovare un sistema diverso dice francesco boccardo che un esploratore del gruppo oltre che non è per tutti perché chi entra inoltre chi ha un'idea e voglia realizzare un progetto e quindi mi dispiace che non siete oltre perché anche per entrare c'è comunque anche il fatto che uno deve presentarsi e deve avere un valido motivo per venire oltre ecco perché noi non prendiamo più tutte le persone che vogliono venire oltre ma selezioniamo le persone perché poi diamo un sacco di valore dice anche stefano versace ha raccontato una cosa simile un sogno quindi praticamente stefano versace persona che io conosco personalmente ha lasciato l'italia andata in america perché in italia ha preso una multa perché un giorno non hanno trovato niente e non potevano andare via senza aver trovato niente e gli hanno fatto la multa per il vietato fumare perché non aveva il nome e lui lui ha detto sapete cosa ha chiuso tutto se n'è andato in america e si è costruito quello che ha costruito ma francesco dice di più francesco dice giuseppe non hai voglia di rivalsa di tornare in italia e dimostrare che puoi farcele anche qui nonostante tutto è una domanda è una domanda francesco mi manca mia madre mio fratello e mia sorella dell'italia oltre queste tre persone non mi manca niente dell'italia quando fai per venticinque anni quello che ho fatto io e se sei un imprenditore sai che non sto dicendo una cazzata io sono quello che ho avuto a rimini una ragazza che rubava i soldi nel mio management di rbnb vado dai grabinieri mi dicono metti la telecamera come un deficiente metto la telecamera in una settimana perché io avevo tante attività in tutta italia vado dai grabinieri e si vede che lei prende 5 mila euro ok quindi se io queste cose qui le dico qua in america mi pensano che le sto prendendo in giro quindi che cosa succede nel mondo che questa persona va in galera ok lei mi ha denunciato a me per violazione della privacy cgl ci isle will e tutti quanti mi si sono buttati addosso siamo andati in causa io lei rubava i soldi io ho dovuto dare 6 mila euro per danni morali a lei in italia io per tornare in vacanza l'italia è il più bel posto al mondo per fare vacanza ma francesco dopo che hai provato quello che sto provando io qui negli stati uniti d'america e la libertà la libertà che ripeto non vai a chiedere un consiglio al barista se devi comprare una macchina devi andare a qualcuno che vende le macchine l'america è così quindi la cosa bella è che se qualcuno mi dice qualcosa io sono cinque anni ripeto che cinque anni e mezzo questo qua non lo dice mai a fin di male ti faccio questo esempio in italia noi quando compriamo una macchina nuova tu paghi agli altri da bere ok perché tu devi festeggiare successo tu ci credi che in america è il contrario quando uno si compra la macchina nuova sono gli amici che fanno il regalo a lui capisci proprio dov'è proprio è alla base la partenza perché perché gli altri sono felici del tuo successo cosa impossibile in italia io ho avuto amici di infanzia che mi hanno mandato accertamenti di guardia di finanza voi sapete che se mettete l'avvocato loro sono tenuti a dirti chi ti ha mandato l'accertamento amici di infanzia che mi hanno mandato gli accertamenti della guardia finanza come fa a mancarti un paese del genere è proprio il discorso del quando tu hai successo la tua luce brille troppa tanti la vedono come un loro insuccesso perché quello che tu stai realizzando siccome loro non lo faranno mai perché trovano solo scuse capito gli dà fastidio qui non è un discorso di ostentazione qui è il discorso che ti danno il merito il giusto merito il giusto successo che io il mio io credo molto al karma ok il mio più grosso investitore americano investito due milioni e mezzo io l'ho conosciuto e non lo fanno trofio non l'ho conosciuto tramite pubblicità linkedin advertising quindi la vita sta vedendo che sto facendo delle belle cose e che sono una brava persona perché io sono uno di quelli voi avete menzionato come si fa di investire con il sottoscritto io sono uno di quelli che su tutti i video youtube dico attenzione a chi ha inviato i soldi perché a me mi hanno fregato quindi io dico sempre attenzione il mio slogan non inviate i soldi a nessuno nemmeno a me perché io non posso raccogliere i soldi io non sono una banca capite la lealtà del fatto di dove sta il discorso no c'è sempre qualcuno che avrà da ridire legalmente per investire col mio progetto il mio commercialista vi apre la società la società apre il conto corrente la chase bank manda a voi i dati di accesso e voi i soldi così li mettete sicuramente sul vostro conto corrente questo è quello che dovete stare molto attento fare molta attenzione perché ci sono molti furbi ok parola toffatore non mi piace ci sono molti furbi quindi no assolutamente non ho nessuna rivalza anche perché è uscito questa intervista che ti dicevo sul sole 24 ore millionaire nel mio paese natale i miei compaesani non avete la più palida idea di che cosa stanno dicendo chissà che cosa ha combinato chissà che cosa ha rubato chissà che cosa ha fatto per arrivare là perché perché siccome nella loro vita non hanno mai fatto un cazzo e non faranno mai un cazzo di niente allora se qualcuno invece si fa un culo non guardano quanto hai sudato quanto hai sgubbato se magari sei rimasto anche senza mangiare se lavori il sabato e la domenica se io tutti i giorni mi sveglio alle 4 di mattina perché leggo un'ora il libro d'inglese che valter lo sa perché nelle stanze che sono entrato tante volte erano le 4 di mattina qui quindi ci siamo incontrati perché perché non mi sono dato un piano b il mio piano b se io non fossi riuscito a realizzare quello che ho realizzato non sarei mai ritornato avrei fatto l'omless a vita piuttosto in america ma non sarei mai ritornato in italia ecco perché l'unico consiglio che mi sento di dire se siete delle persone che vi sentite frustrati non fate cazzare la vostra vita è fantastica la vostra vita è magica in altri posti vi apprezzeranno vi vorranno bene e vi stimeranno invece di togliervi la vita prendetela questa vita che è magica e andate in un posto dove vi faranno sentire speciali oggi io non so quanto guadagno al mese e non me ne frega niente ma il fatto che nessuno mi giudica e mi critica e che sono ritornato a sognare è la cosa che vi auguro di cuore di provare a tutti quanti voi è proprio questa frase che aveva a che fare con una room che hai che hai tenuto credo una su una settimana fa era credo che era una domenica perché stavo camminando sono entrato nella tua room dove parlavi di sogni dell'importanza di sognare io ho detto la mia sotto forma di io adoro andare a vedere l'etimologia delle parole e quindi sogno deriva da sonno e quindi ho detto è bello sognare ma è bello anche svegliarsi e darsi da fare per realizzare quel sogno altrimenti tanti di noi vivono nel e io lo vedo perché faccio il consulente e la gente dice voglio fare sì poi quando gli dici ok impegniamoci no cioè incominciamo a fare eh no beh beh no però un attimo adesso non c'è devo vedere non ho non ho soldi non ho tempo non ho e incominciano tutte le scuse quindi tutti tra virgolette sognano quindi il sogno c'è però dal 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 sognare all'azione ma manca manca un qualcosa siccome tu sei un imprenditore e questa puntata la voglio proprio dedicare a chi vuol diventare un imprenditore o chi un imprenditore e vuole avere quel quel guizzo in più perché perché se siete qui in questo momento state ascoltando questa puntata portatevi a casa qualcosa di importante per modificare il vostro mindset perché non potete pensare come ieri un anno fa lo dicevo non pensate quella testa di sei mesi fa perché non è più il 2019 non è più il 2019 dovete avere una nuova identità dovete venire fuori nuovi comportamenti dovete studiare dovete eppure la gente a un certo punto sì bello bello bravo 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 valter bravo che bella puntata poi adesso vado faccio un po di ricerche li vedo che sono ancora lì che si cercano che che vendono sempre il solito prodottino che sono fermi ecco tra questo sogno che hanno tutti tra il sogno è la realizzazione c'è tutto questo movimento quello consiglio che dai alle persone per smuoversi per avere il coraggio di fare un'azione e non continuare a lavorare come sempre uno solo uno solo valter io sono 27 anni che ho come coach il team di Tony Robbins e non smetterò mai di investire su me stesso perché quando qualcuno mi dice che fare corsi di formazione è sprecare i soldi guarda che quelli sono i soldi migliori utilizzati nella vita non lo dice Giuseppe Cicorella Darwin ha sempre sostenuto che non è il popolo più forte più prestante che domina il mondo ma colui che è più veloce a adattarsi al cambiamento per fare ciò devi investire su te stesso quindi l'unica cosa che separa la differenza voi provate a pensare no io ho Tony Robbins che ho sempre seguito e Warren Buffett ci sono queste due persone due libri se posso menzionarli hanno cambiato la mia vita sono pensare ti ci te stesso in italiano si chiama think and grow rich in americano ed intelligent investor di benjamin graham che è il libro sul quale ha creato tutta la fortuna warren buffett ma se warren buffett e Tony Robbins hanno sempre detto e sostenuto ascolta qua il povero pensa di sapere tutto e vuol dar consigli il ricco ha sempre voglia di imparare cose nuove ed è sempre pronto ad imparare quindi ascolta quindi capite che proprio è alla base il fatto che non funziona quindi tutte e due dicono che la differenza tra il ricco chi realizza chi ha successo e il povero è solo una anche io ho tanti amici che consiglio libri Walter mi dicono che non funzionano capito lo leggono 20 milioni di persone che dicono che cambiano la vita però loro non funzionano una cosa funziona non funziona se la metti in pratica non se la leggi quindi il sogno non basta sognare qualcosa non basta desiderare l'unica cosa che fa la differenza è l'azione io quello che ho sempre consigliato è comincia adesso dovunque tu sei con quello che hai tutto quello che ti serve lo troverai strada facendo e in due libri diversi e differenti credi senza averli letti lo dice Tony Robbins e lo dice warren buffett le stessissime parole quindi cominciate dove siete con quello che avete perché io conosco persone che sono cinque anni che si stanno organizzando per investire nel mio progetto qual è la differenza che quando sono arrivato una casa di 30 mila dollari la compravamo con 30 mila dollari la stessa casa oggi la compri a 90 mila dollari capite qual è la differenza perché ci sono i ricchi nei periodi di crisi diventano sempre più ricchi e i poveri diventano sempre più poveri io delle persone che ho fatto consulenze loro mi hanno detto valter mi hanno consigliato di aspettare che passa tutto e io quando gli ho detto semplicemente ma chi te l'ha consigliato è un esperto no è un amico e che che lavoro fa lui tutto tranne l'investitore immobiliare quindi ecco perché io sono la persona più difficile al mondo per rispondere anzi al contrario quello che dicevo prima la domanda che mi hanno fatto rivalza con l'italia da quando ottobre ho chiuso il mercato italiano al mio progetto e mi fanno il successo quindi noi con le parole possiamo dire quello che vogliamo io ho un averag che vuol dire una media di lavoro con un italiano di ascolta qua di 27 ore al mese con un americano di due ore al mese capisci proprio cioè c'è questo discorso qui esempio banalissimo giovanna d'arco non è non ha pagato l'affitto c'è dietro l'avvocato non appena incassiamo ti avviso l'americano ve lo giuro non ci chiede niente italiano allora ci sono novità arrivato niente perché non arrivano comunque non arrivano quindi c'è questa cosa qui che piuttosto che crescere mi sono dovuto arrendere e anzi delle persone le ho invitate io ad uscire dal progetto mi sono ricomperato io l'immobile il punto di forza del progetto valter è proprio questo che c'è chi ha investito nel mio progetto è atteso una settimana per aver l'immobile e chi ha atteso un mese perché perché se l'immobile non è buono ricordatevi che io divento proprietario con voi se l'immobile non è buono le caratteristiche la pulizia del titolo il rendimento non lo compero tanto per comperarlo perché non mi date a me una figlia io divento vostro business partner quindi le persone sono legate per due anni nel contratto se vogliono uscire me lo compro io l'immobile come sto facendo per tante persone che devono rientrare dei capitali proprietari di ristoranti palestre che sono in ginocchio in Italia quindi questa è la cosa che io consiglio azione cominciate adesso ora quelli che si devono organizzare non rimarranno sempre sempre fermi ripeto bitcoin io l'ho pagato 174 dollari un bitcoin oggi è 56 mila dollari ok ok dieci anni dieci anni fa ero un truffatore oggi ho avuto cura quindi come fai la fai sbaglierai sempre però prendi te stesso e cerca di diventare migliore non degli altri io la cosa che in america amo e che le persone non io e balter se siamo due investori immobiliari non vedrete mai l'americano che ti dice i want to be better to him voglio voglio essere migliore di lui no loro dicono i want to be my my best version ever of yesterday voglio essere la mia migliore versione di ieri quindi questa è la differenza che c'è di mentalità del voler prevalere dominare gli altri e invece in america vogliono essere migliori di se stessi bello tanta roba tanta roba quindi è passata l'ora come vi dicevo la puntata era incredibile ve l'ho detto lo è stata cosa volete più che vi dico cosa volete di che dico non so non so peggy peggy dice che abbiamo dato pelle ai porci e invece no niente pelle ai porci perché come dico sempre uno che non riesce a prendersi mezz'ora di tempo per guardarsi questa puntata come mezz'ora scusa non è un'ora vai su youtube metti per due e te la vedi non vedo il problema eppure la gente non ha tempo di migliorare l'ha detto lui a un certo punto ha detto investi su te stesso e la gente non investe su se stessa la gente compra e compra la televisione nuova e compra il computer nuovo e compra la macchina ci spende soli per la materia 10.000 euro per una ma porca puttana ma 10.000 euro per una macchina 10.000 euro per una macchina e per il tuo sapere i video gratuiti rubati in giro perché posso avere i tre video gratuiti tuoi e poi i tuoi e poi vado su google qui capisci io guardo subito io guardo una persona dico hai una macchina nuova seconda pagata 25.000 perfetto gli ultimi corsi di formazione di quest'anno beh no non faccio formazione numero uno non mi interessa non parlo con sta gente io parlo con gente che vuole crescere se stessa e quindi per arrivare alla fine prima di salutare giuseppe devo dire due cose molto importanti la prima se poi posso anche magari dire l'ultima cosa prima di chiudere allora prima allora tu la dirai dopo io faccio il riassunto ma prima devo dirvi questo gratifica condivide coinvolgi e qui dovrei fermarmi perché se non riuscite a capire che gratificare condividere coinvolgere fa bene dove volete andare con le vostre idee delle vostre idee sono delle neuroconnessioni cerebrali che girano all'interno del vostro cervello non esistono tutti avete idee fighissime ma se non passate l'azione se non create relazione se non condividete questa puntata con gli altri se non la fate vedere se vi tenete tutto per voi vi prendete un blocco intestinale avete bisogno del file qui dopo come fate a non capirlo non io non ce la faccio io le volte impazzisco dico ma ma può essere la gente così stupida ma può eppure sì se non condividete se non portate le persone all'interno dei vostri progetti all'interno di quello che fate se non li coccolate sono gli dite venite qua guarda che ti faccio vedere guardiamo la puntata insieme e invece no guardo basta quindi gratificate condivide coinvolgete e soprattutto paypal.me slash dona webinar lunch se vi è piaciuta questa puntata se avete portato a casa qualcosa interessante fate una donazione a paypal.slash dona webinar lunch cosa facciamo regaliamo dei giochi di bangia i bambini malati di tumore tutto là guardate che piccola roba che possiamo fare con 3 euro basta che mandi 3 euro 3 euro un gioco di magia ora immaginate quanta gente possiamo aiutare siamo in dieci che guardiamo questa puntata sono 30 euro sono dieci giochi sono dieci bambini certo che non potremmo curare i bambini perché non siamo nessuno per poterli curare probabilmente c'è una parte medica ma noi possiamo cambiare il mindset di un bambino perché gli facciamo capire di essere un mago e nello stesso momento anche se non riusciremo a fare qualcosa di così straordinario grazie a questa piccola donazione per cinque minuti regalerete un attimo di serenità a queste famiglie e solo questo vale tutto loro del mondo e non è facile capirlo e questa è la parte che mi dispiace di questo paese che non capisce che con poco potremmo veramente fare tanto siamo egoisti e pensiamo ognuno ai stracazzi nostri ecco questo mi dà un fastidio che voi non potete immaginare sapete cosa faccio vado avanti vado avanti è la faccia di tutti quelli che un giorno avranno bisogno e quando avranno bisogno diranno adesso ho capito cosa mi diceva Walter all'epoca perché quando avranno bisogno queste persone capiranno quanto sono rimaste estitiche durante la vita quante persone ci sono ogni giorno che si danno da fare per aiutare i più bisognosi e lo capisci solo quando quando sarai nella merda non glielo auguro a nessuno credetemi perché ci sono stato io come come giuseppe tante altre persone sono state nella merda e ti renderai conto di quanto è importante essere altruista perché perché c'è sempre qualcuno pronto ad aiutarti e se tu non sei pronto ad aiutare qualcuno vuol dire che sei misero e sapete quanto io ci tengo questa cosa se volete migliorare nella vostra vita www.vaioltre.it venite oltre imparate a essere delle persone meravigliose altrimenti andate pure dalle altre parti a criticare chi fa prego giuseppe allora io Walter se me lo permetti su www.giuseppecicurella.com vedete un po che cosa ho fatto chi sono perché ho parlato in questo modo cosa ho realizzato i numeri che sto facendo e ripeto l'america non è l'italia se dici e scrivi delle cose non è che te le puoi inventare devono essere concrete altrimenti ti fanno un culo grande quanto una capanna questa è l'intervista di millionaire quindi su www.giuseppecicurella.com c'è il libro quello che io ho fatto Walter il nome già ti deve far capire che persona sono il capi questo qui il bambino che sognava di cambiare il mondo il libro voi immaginate cioè se io dovessi diventare ricco per la vendita di libro il 10 per cento io guadagno del libro quindi non si guadagna niente però perché il libro mi piace da morire perché racconta tutta la mia storia Walter io qualcuno mi ha detto che ho sbagliato già mi hanno detto che ho sbagliato perché racconto la verità cioè io vengo da una famiglia mio padre era contadino mia madre era casalino questo è come se mio padre mi desse il seme nelle mani il thriller mi fa venire i brividi perché ti dico questo Walter perché io con mio fratello mia madre mio padre abbiamo dormito nello stesso letto fino all'età di cinque anni letto matrimoniale mia sorella dormiva sul divano e il nostro salotto cucina e diventava la sera al garage perché il tre ruote di mio padre o l'ape di mio padre la macchina la mettevamo dentro perché vi parlo di mio padre mio padre non c'è più da 19 anni però è stato il mentore il papà migliore che che posso augurare a tutti quanti perché lui mi diceva sempre io so che tu farei delle grandi cose perché io piangevo spesso davanti a lui perché dicevo ma perché tutti quanti mi prendono in giro perché mi dicono che dico cazzate bugie cioè io io ero un grande sognatore sin da bambino no e lui diceva io so che tu farei grandi cose no promettimi solo una cosa che non dimenticherai mai le tue radici ecco perché tutto quello che io sto facendo non devo dimostrare più a te nessuno quando c'è tutte le cicatrici che ho io sul cuore sul su dappertutto solo tu sai quello che hai passato e quindi non posso che ringraziare mio padre per la persona che sono oggi quando qualcuno ancora oggi valter mi dice i soldi ti rendono cattivo ti dico che stai dicendo una merita stronzata perché se tu sei una persona buona i soldi ti fanno diventare ancora più buono se tu sei una persona cattiva prima i soldi ti fanno amplificano il tuo essere e volevo chiudere con una storia che mio padre mi ha raccontato quando avevo 7 8 anni io ho detto sono nato a conversano c'era un lago dove andavamo a prendere l'acqua per per innaffiare praticamente i pomodori queste cose così no col tre ruote e io ero triste proprio perché dicevo che tutti quanti mi criticavano proprio piccolo già alla scuola anche la maestra diceva non sta mai fermo e tutto il resto e mio padre aveva un modo di insegnarmi a vivere pazzesco allora a un certo punto mi dice vieni qua giuseppe mi avvicino perché stavo giocando con i pesciolini no mi avvicino e mi dice senti niente io sono dei 73 quindi da noi c'erano ancora i carretti no e io dico no papà che devo sentire se senti bene è un po difficile raccontare questa cosa per me e mi dice senti bene e c'era e comincio a sentire dicono si sente un cavallo e il carretto e lui mi fa sono passati 40 anni perché ho 47 anni quindi e lui mi fa e secondo te è vuoto e pieno il carretto e dico io papà che cazzo non è che gli ho detto che cazzo ne so non dicevo parolaccio da fronte mio padre anzi mai alzato una mano ma un rispetto per lui pazzesco io dico papà non lo so ascolta bene io dico papà non lo so lui dice il carretto è vuoto Walter e dico e vabbè come fai a sapere perché io mi guardavo non si vedeva il carretto arriva il carretto con il cavallo e il carretto e il signore che lo guidava ed era vuoto e voi immaginate dico cacchio un mago mio padre dico io papà ma come facevi a sapere che era vuoto il carretto contadino non aveva neanche la quinta elementare mi si avvicina e mi dice il carretto è come le persone più è vuoto e più fa rumore quando il carretto è pieno aderisce a terra e non fa tanto rumore perciò sta tranquillo tu farai grandi cose nella vita ci saranno sempre le persone che ti criticheranno ma più ti criticheranno e più saranno persone vuote perché quando una persona per arrivare dove è arrivata ha sudato ha avuto problemi come li avrai tu non avrà il tempo di starti a giudicare a criticare questo è il consiglio che dottati quanti voi lasciate andare con le persone là ti ho sentito molto arrabbiato Walter e mi dispiace perché io papà l'ho perso per un cancro e con me sempre per sempre e questa cosa qua la porto sempre con me nel mio cuore il fatto che comunque le persone sono come quel carretto più sono vuote e più fanno rumore una persona che piena come il carretto aderisce per terra e non si gira nemmeno non ha bisogno di stare a parlare gli altri provate a ragazzi giuseppe cicorella oggi direttamente da cleveland ohio olio e peperoncino ci ha detto che sapevo di voler diventare chi volevo i dipendenti che ti insegnano a fare l'imprenditore questo è il problema della scuola che qualcuno ti insegna a vivere quando non sa vivere perché dipendente voi sapete cosa significa essere dipendenti vuol dire dipendere dalla scelta di qualcuno e quindi non sei libero tutto là e lui ti viene a spiegare come funziona l'imprenditoria se vagli e mergi non ci sono scorciatoie questa è la differenza tra l'america e l'italia italia ci sono scorciatoie politiche scorciatoie di tutti i generi no abbiamo esportato cose meravigliose ma anche cose molto meno meravigliose primo momento respinta e rifiutata poi hai avuto culo quindi la è così prima ma che cazzo di una inchiata poi funziona e ma che culo che hai avuto come quando ho fatto il tè dove sono dato si che vale che culo che sei andato quando parti da zero e hai successo dai fastidio ahimè in italia funziona così non cercate di piacere a tutti questo se c'è una cosa che ho tolto è proprio che non me ne frega niente di quello che pensano gli altri forse se non me ne frega niente non me ne frega tanto forse niente chissà forse ancora qualcosina c'è ancora qualche rimasuglio però tendenzialmente la gente può pensare quello che voglio o un mantra oggi il mantra è quando verrai qui e pagherai il mio affitto potrai dirmi qualcosa fino a quel momento quello che tu dici non vale niente fine questo è il mio mantra dell'ultimo periodo perché perché in questo anno ho avuto difficoltà perfino a pagare l'affitto perché perché il mio lavoro è stato disintegrato e sentire gente che mi viene a dire a me quello che devo fare quando io qua non avevo come vivere non avete capito avete sbagliato proprio persona warren buffett quando parlano di un contesto dovrebbero nominarti ecco questo è sintomo di successo quindi quando si parla di quella cosa e nominano te vuol dire che sei sulla strada buona non scegliamo il nome i genitori e dove siamo nati il resto è tutto nelle tue mani c'è poco da aggiungere l'italia ti fa sentire inutile l'america ti incentiva in italia apri attività e devi dimostrare tutto tutto un po come quando vengono ad arrestarti e non hai nessuna colpa cioè devi discolparti di un qualcosa che non hai colpa e devi discolparti e sei già sei già sulla prima pagina poi dopo due anni tre anni quattro anni in realtà non era successo niente ma quella prima pagina non te la toglierà mai nessuno questa è l'italia ragazzi ricordatevelo che siamo in un paese che è meraviglioso ma ha queste grandi contraddizioni ahimè cosa possiamo fare per migliorare il tuo business ecco questo è quello che fanno in america e quello che potresti fare tu oggi stesso con il tuo cliente andare lì e dirgli cosa potrei fare per migliorare il tuo business se tu gli vendi una scheda elettronica se tu gli vendi un app se tu gli vendi cosa potresti dargli ancora di più per migliorare il suo business fate questa domanda al vostro cliente invece di vendergli solo il pane chiedigli oltre ad averti venduto il pane cosa posso fare per migliorare il tuo business e ritorniamo nella puntata con massimo bolla dove si parlava cosa puoi fare per gli altri in italia c'è la presunzione di sapere tutto tutti sanno tutto difatti vai su facebook e c'è la sala ormai è diventata la sagra del dei complottisti dei quelli che sono tutti su sono tutto su quello che riguarda i vaccini e via dicendo l'immobile deve farti guadagnare non aspettare che sia bello devi solo prenderlo e farti guadagnare non perderti in minchiate no però non mi piace non devi mica viverci chiedi a chi ha più esperienza di te quindi non andate a chiedere a chi non ne ha l'esperienza ecco perché dovete fare attenzione ai genitori perché mio papà a cui voglio un mondo di bene è un macellaio e non sa cosa vuol dire andare davanti a un pubblico di mille persone non sa cosa vuol dire tenere una room su clubhouse non sa cosa vuol dire fare 182 183 puntate del webinar launcher non sa non può saperlo quindi posso chiedergli un consiglio perché il mio padre ma non di più perché non sa perché ti dirà no non fare perché quando ho 28 anni ho detto che vado a fare animatore turistico mi ha detto dove vai ai 28 anni dovresti mettere su famiglia e quella è la differenza e la mia risposta è stata vado a fare quello che mi piace oggi mio papà dice le persone mio figlio fa teatro gonfiando il petto è orgoglioso ma è orgoglioso perché ho scelto con la mia testa non con la sua non scegliete con la testa degli altri scegliete con la vostra di testa chiedete consiglio chiedete feedback andate da chi ne sa non da chi non ne sa ho la fortuna di avere conoscenze meravigliose e uno dice che culo ho speso 15 anni della mia vita a girare l'italia per conoscere tutta sta gente se ho fatto 183 puntate e ne ho altre 150 in cantiere ci sarà un motivo ho investito su me stesso non sulla macchina non ho più la macchina perché più importante me io gli altri sono felici del tuo successo questo è quello che capita in america in italia no anzi se tu sei un uomo di successo ti mandano perfino la finanza non ti fanno la festa tranne gli esploratori oltre gli esploratori di oltre quando abbiamo fatto un anno mi hanno hanno condotto loro hanno creato loro la puntata e hanno loro festeggiato me ma perché sono oltre sono persone che hanno capito che per essere migliori devi essere differente dalla versione che eri prima ma lo vedremo fra un attimo investi su te stesso o su te stessa diventa una persona migliore studia mi diceva il nonno dell'hotel aurino quando avevo 28 anni che sono andato a fare animatore 29 a moena il nonno dell'hotel aurino mi diceva studio e io gli ridevo in faccia studia io 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 che odio la scuola ah no no dai 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 dopo due anni ho conosciuto la programmazione neurolinguistica da quel giorno ho cominciato a studiare questi sono i miei libri 250 libri da una parte dall'altra del mobile fortuna impegno ragazzi impegno dedizione in questo momento sono le ore 20 e 22 ho incominciato questa mattina alle 10 a far le dirette ho fatto tre consulenze ho fatto due room e ho fatto due dirette sui webinar io tra pochino devo cominciare sulle pause e la gente ti dice fortuna il povero è pronto a dar consigli ricco e pronto di imparare ragazzi comincia dove sei con quello che hai nella strada troverai ciò che ti serve è tutto qui ragazzi si chiama imparare ad arrendersi e ripartire in modo diverso ok è andata così basta non dovete rimanere aggrappati quello che dovete fare è azione l'ho chiamata fare fiducia azione risultati entusiasmo se non fate non otterrete mai niente si la migliore versione di ieri oggi si meglio di ieri domani si meglio di oggi se oggi sei uguale a ieri la pianta cresce ogni giorno di poco ogni giorno in parteci impercettibilmente ogni giorno non beh oggi no il carretto come l'uomo più vuoto è più rumore fa giuseppe cicorella grazie mille è stato veramente un piacere condividere con te con voi questa esperienza e l'ultima cosa ve la devo a tutti gli imprenditori italiani me l'ha insegnata l'america se quando siete seduti ad un tavolo voi siete il migliore quello che ha avuto più risultati quello che guadagna più soldi quello che sa di più siete seduti nel tavolo sbagliato ecco perché ecco perché e webinar launch porto sempre persone migliori di me perché perché sono qui per imparare come voi la differenza è che mi sono incastrato e io ogni giorno devo migliorare ogni giorno il trucco è semplice grazie grazie di cuore siete fantastici emanuel lago ci sentiamo su club house michela dice bellissima valore ed emozione grazie giuseppe scroscio di applausi lasciare andare insomma che dire grazie a tutti commentate qui sotto gratificate condivide coinvolgete ci vediamo in club house grazie di cuore veramente un ringraziamento a tutti i miei sponsor ne nomino uno solo che si chiama pierre ne abbiamo che è quello che se non fosse stato per lui io oggi non ero su club house a fare quello che sto facendo veramente grazie a tutti e saluti da peggy polli noi non diamo per le i porci ci vediamo in ohio a cleveland nel mio ristorante ohio olio e peperoncino anche a maiemi è perché qui ho la società di management e gestisco gli immobili a reddito però il flipping li faccio in florida quindi c'è fantastico anche perché in florida c'è stefano versace quindi appena ho finito di pagare l'affitto arrivo ciao a tutti ciao ciao a voi rimani qui giusto un secondo che ti saluto